in questo numero del salus tg 17 milioni di ipertesi in italia dallo studio escape i risultati di una nuova terapia con canrenone nuova diffida della nao alle università a rispettare gli orari di lavoro per i medici informazione svelato l'effetto della gravidanza sulla materia grigia delle neomamme da egocentriche diventano neonato centriche l'ipertensione arteriosa colpisce 17 milioni di italiani e scatena complicanze quali ictus infarto del miocardio insufficienza renale cronica ma adesso un nuovo farmaco potrebbe consentire di salvaguardare gli organi bersaglio del killer silenzioso cuore vasi e reni è quanto emerge dallo studio escape è uno studio realizzato completamente in italia e ha visto trattati i pazienti ipertesi in stadio secondo non a target già pretrattati con acidimitori sartanici e idroclotiazide al massimo dosaggio a questa strategia è stato aggiunto il canrenone e in due dosaggi differenti 50 e 100 mg e il trattamento è durato circa tre mesi ha normalizzato oltre il 70 per cento dei pazienti ipertesi trattati le università continuano a non applicare la legge europea sull'orario di lavoro ai medici informazione per far rispettare la normativa a un anno di distanza dalla prima diffida la nao assomed ha inviato a tutti gli atenei un secondo avviso la denuncia nasce da una rilevazione condotta dal settore a nao giovani in caso di ulteriori violazioni il sindacato si rivolgerà alle competenti sedi dell'ispettorato del lavoro e a quelle giudiziarie per i casi più gravi oltre a provocare sbalzi ormonali a innescare meccanismi di adattamento biologico la maternità produce anche un effetto sui neuroni che diventano una sorta di antenne programmate per intercettare bisogni del bebè e il suo umore i cambiamenti durano per almeno due anni dopo il parto lo dimostra per la prima volta uno studio spagnolo